Da oggi è in funzione il nuovo parcheggio di Porta Leoni con 90 posti auto a raso. Con questo parcheggio la città avrà a disposizione un nuovo spazio per agevolare la sosta dei cittadini. Un parcheggio controllato da un impianto elettrico per l'ingresso e l'uscita con una sbarra esterna. Il parcheggio a pagamento è un tariffario, una sorta di via sperimentale per il momento. Sarà gratuito la domenica e nei festivi, a pagamento dalle 8 alle 20 con un tempo di sosta gratuito per mezz'ora dall'ingresso. Poi si pagherà 2 euro l'ora, questo per disincentivare la sosta lunga rendendo l'area a rotazione. Il display permetterà poi al sistema di riconoscere anche le persone con disabilità munite di talloncino. Il parcheggio è costato 1.400.000 euro, nato grazie all'accordo tra Comune e Atar, che ha concesso l'area al Comune in cambio di alcuni appartamenti. Si tratta del primo passo di un progetto più ampio, in quanto è previsto anche un ulteriore parcheggio interrato, più una riqualificazione totale dell'area. Sì, è un esperimento naturalmente che facciamo e lo abbiamo pensato esattamente così per soste brevi, mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza al massimo. Cioè gente che ha necessità di venire in centro per fare un acquisto, per ritirare qualcosa, per recarsi in un ufficio, ha dei tempi ridotti e arriva lì. Paga, troverà parcheggio verosimilmente e quindi avrà un'accessibilità rapida al centro storico. Si tratta di una prima fase perché, come detto, poi ci saranno anche tutto il sistema dell'estrice blu che naturalmente avranno tariffe invece diverse e più agevolate. È il primo step, sindaco, di un progetto più ampio perché l'idea è sempre quella di fare un parcheggio interrato, di riqualificare l'intera area di Porta Leone. Sì, è un primo lotto quello del parcheggio a raso. Non abbiamo voluto attendere di avere il progetto complessivo per dare una prima risposta alle esigenze di parcheggio nella città dell'Aquila che comunque io credo saranno abbondantemente risolte non soltanto con i parcheggi di scambio che stiamo prevedendo e anche con la realizzazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro storico ma anche con una regolamentazione diversa della sosta in centro, esattamente come succede in tutte le città d'Italia, dell'importanza pari all'Aquila. Inoltre con la riattivazione del tapirulana avremo sempre il polmone, per il momento ancora per un po' gratuito, del megaparcheggio che è un'altra alternativa utile.